Lo scenario economico attuale influenzato dalla diffusione della pandemia, la caduta del PIL osservata nel primo semestre dell'anno è stata la più forte mai registrata dal dopoguerra ed è stata il frutto delle misure intraprese per limitare la diffusione del contagio. Sulla base dello scenario macroeconomico e finanziario e tenuto conto del patrimonio immobiliare locato a terzi, la fondazione Cassa di Risparmio di Fano nel 2021 potrà disporre di risorse calcolate attorno ai 2.049.000 euro. È stato ipotizzato un rendimento complessivo di 1.964.000 pari all'1,75% netto. In totale la fondazione si prefigge di erogare 920.000 euro in diversi settori. 230.000 per la salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa, 180.000 euro per l'arte, attività e beni culturali, altrettanti per il volontariato e la beneficenza, 180.000 anche per il comparto della famiglia e assistenza agli anziani. 120.000 andranno invece al settore dell'istruzione e formazione, mentre 30.000 euro saranno destinati alla protezione e qualità dell'ambiente. Il documento programmatico previsionale per il 2021 è stato approvato all'unanimità del Consiglio Generale e con il parere favorevole all'unanimità dell'Assemblea dei Socii lo scorso 25 ottobre. Abbiamo confermato anche nel bilancio preventivo 2021 lo stesso stanziamento che era previsto per l'anno 2020, 920.000 euro. Per l'ambito sanitario in particolare quali saranno gli interventi? Nell'ambito sanitario gli interventi sono quantificati nella misura di 230.000 euro, di cui la gran parte è riferita e destinata alla realizzazione della parte di riabilitazione dell'impianto natatorio attualmente in costruzione. Infatti noi abbiamo ricevuto un'autorizzazione specifica, un'autorizzazione sanitaria per realizzare nell'ambito di questo complesso cantiere anche una parte con una vocazione sanitaria e riabilitativa con un'autorizzazione regionale dedicata a questa attività. Nel corso del 2020, oltre a finanziare la costruzione del centro natatorio, la Fondazione Carifano ha stanziato 300.000 euro per l'emergenza coronavirus, 100.000 destinati alle apparecchiature medicali di Marche Nord, in particolare per il reparto di medicina interna e per il centro dello scompenso cardiaco dell'unità di cardiologia del Santa Croce di Fano. Le altre risorse invece sono state utilizzate per l'acquisto di mascherine durante il lockdown e per fornire alle USCA le attrezzature necessarie alla loro attività. Presidente, se dovesse esserci un nuovo lockdown, la Fondazione potrà dirottare eventuali risorse su questo settore, quindi sanitario? Noi per rispettare le nostre norme statutarie abbiamo il Consiglio di amministrazione alla facoltà di dirottare, di girare fondi nella misura del 15% degli stanziamenti da un settore all'altro. Quindi se ci dovesse essere una necessità potremmo prenderla in considerazione.